La sintesi montata da Ugo Rosa si apre con il quinto minuto di gioco. Corner per il Cagliari. Loenstrup di testa all'aria. Sesto minuto, Vasari in azione. Lungo il lancio, stop di petto a seguire la bella conclusione. Grande prudezza delle portiere della salaritana Balli. Pulizioni all'undicesimo, Breda batte fortissimo. Diciannovesimo, ancora Cagliari, verticalizza Onnil, anticipato al momento del tiro, azione regolare. Dopo la mezz'ora cala il Cagliari, la salaritana si presenta in zona tiro con il sinistro di Artistico. Quarantaquattresimo, Macellari, Berretta, alza troppo sulla traversa. Una stranezza. La maglia del calciatore numero 23, c'è scritto Scacugia, in realtà si chiama Scugugia, avvertire il magazziniere. Ripresa, Villa, Loenstrup e ancora una grande prudezza delle portiere Balli. Quindicesimo, punizione, tocca Breda, artistico, gol. 0-1 al Santeria della salaritana, rivediamo la barriera salta e sbaglia. Incolpevole il portiere e qui c'è qualche passo di danza del limbo. Ventiquattresimo, Cagliari in dieci per l'espulsione di Sanna, che era già ammonito. Di Vaio, suo il grandestro, è la bella parata delle portiere delle Cagliari. Carruezzo, appena entrato viene messo giù, viene espulso anche Franceschini, parità di nuovo. Fra le due squadre, ancora una grande conclusione di Di Vaio. Siamo praticamente agli ultimi minuti, 44esimo. Muzzi, attenzione, si libera ed è il pari delle Cagliari. Rivediamo l'errore difensivo. Il pallone scivola sul fianco del calciatore delle Cagliari. sbagliano Galeotto, Ferrara e Breda e palla nel sacco. La palla del 1-1.